Ragazzi, benvenuti nel riassunto del 2023. È un video che faccio ogni anno, ormai è una tradizione, e racconto cosa è successo, quanto ho guadagnato e quanto ho speso nell'anno che si è appena concluso. È una cosa che è utile sicuramente a me, per fare un po' i conti di cosa è successo, e spero che sia interessante e utile anche a voi. Non lo faccio per flexare, ma per essere trasparente, perché da sempre è un mio valore. Una volta nessuno lo faceva, quindi mi son detto sarebbe bello se qualcuno raccontasse in maniera schietta e trasparente i propri guadagni, come li fa, senza fare il fuffaguru e senza neanche nascondersi. Ora lo fanno in molte più persone, quindi sono contento, però questo video rimane per gli appassionati, per chi vuole farsi i cavoli miei. Ficca nasare, ma magari anche utile. Partirò dall'aspetto umano, parlerò poi di come è andato il mio canale YouTube, poi appunto parlerò dei guadagni del mio canale YouTube, e di tutta la mia azienda Marcello Ascani SRL, poi di tutte le mie spese, e poi di Flatmates, cioè la mia agenzia. Perché come ho detto ormai svariate volte, io ho sia la Marcello Ascani SRL, che SRL con cui gestisco, diciamo, le attività legate al mio canale YouTube, e poi ho la metà di Flatmates, che è un'agenzia che si occupa di influencer marketing, che quest'anno ha preso tantissimo del mio tempo. Ok, partiamo. Il 2023 per me è stato un ottimo anno, un anno stabile, ed era proprio il mio obiettivo, e un anno di forte crescita, specialmente dal punto di vista imprenditoriale. Ho imparato veramente un sacco e sono stato tanto stimolato da questo punto di vista. Perché finalmente, da dicembre del 2022, quindi poco più di un anno, sono in un ufficio, tra l'altro un ufficio bellissimo in centro a Milano, quindi non mi posso lamentare. Da ormai inizio del 2022 sono anche in una casa in affitto, e quindi il Marcello che viveva con la pelligia in mano, che era un avventuriero, che si divertiva un mondo, però era anche super stressato perché non aveva un posto che poteva chiamare casa, è cambiato. Adesso c'è una vita normale. Significa, sì, purtroppo meno viaggi, ma anche più stabilità, più tempo anche di lavorare e dedicarsi con calma ai progetti a lungo termine, e questo ripaga anche in termini di crescita personale, cose che imparo, e anche stimoli da un punto di vista lavorativo. Punto negativo, lo sport. È stato un anno sedentario, purtroppo. Non ho fatto maratone quest'anno, non ho proprio corso neanche un po', non corro dalla scorsa maratona, e quindi sono un po' ingrassato. Ma non solo, passando anche tanto tempo seduto, mi sono un po' ingobbito, mi sono rattrappito, ho provato a fare un po' di yoga, ci ho fatto un video a riguardo, ma ho gradualmente smesso di nuovo, e quindi l'aspetto fitness e benessere quest'anno è stato un gran fallimento. Il prossimo anno si recupera. Come ho detto, ho fatto anche pochi viaggi. Sono stato extra Europa solamente a Boston e in North Carolina per due progetti con i brand. Questo è un viaggio lungo mesi. Nel 2022 ero stato addirittura un mese e mezzo in Cile, un mese in Antartide, e ho fatto anche altri viaggi, ero stato a New York, quest'anno no. Però era una mia decisione, quindi non l'ho sofferta come cosa. Bilancio, vita privata, lavoro, ottimo. Un netto miglioramento dal 2019 fino ad oggi. Chiaramente avere sia un ufficio che una casa, che una vita stabile, è una ricetta perfetta per ricominciare ad avere una vita normale anche dal punto di vista privato. Un altro piccolo punto negativo è che quest'anno ho effettivamente lavorato un botto in alcuni periodi dell'anno, in cui punti nevralgici come la fine dell'anno, giugno, prima dell'estate, sono stato veramente stressato. In generale l'anno è stato poco stressante. Sono stato più calmo, più tranquillo rispetto al 2022-2021, specialmente al 2021. Tranne però per alcuni momenti, qualche settimana, veramente di tanto stress. Ma tanto, tutto concentrato, quasi che rischiavo il burnout. Eravamo là. Comunque, voto dell'anno positivo, in netto miglioramento dal 2021, che per me è stato non un bellissimo anno, secondo me, visto da posteriori. Come è andato il mio canale YouTube? In generale, medio. Sono contento del format dove intervisto gli imprenditori, perché in primis mi è servito a me per imparare, perché anche voi avete visto che mi stimolava un sacco e è un format che funziona, e voglio continuare a farlo. Mi piace anche fare l'imbocatone alle aziende, che sono molto migliorate in termini di qualitativi e di narrazione, secondo me. Mancano ovviamente i video vlog, perché ho fatto pochi viaggi, e i vlog che ho fatto qua in ufficio facevano pena. Ogni tanto mi dicevo, no, voglio raccontare il mio percorso. Su quello devo ancora trovare una quadra. Prossimo anno, un obiettivo è proprio quello di capire come raccontare il mio percorso in maniera interessante, dato che ormai è un percorso diverso, un percorso imprenditoriale, non più da nomine digitale. Sono anche contento dei video che possiamo chiamare explainer, quelli che ho fatto sull'intelligenza artificiale, vari video sulla finanza personale che era da un po' che non trattavo, quelli mi è piaciuto un sacco scriverli, approfondire quegli argomenti apposta per fare il video. Sono anche andati bene, come quel pipozzo da 40 minuti sul trading, quindi sono contento. Questa volta ho fatto un salto di qualità e ho preso tutti i dati del canale per ogni video e li ho dati in pasto a un data analyst per vedere un sacco di cose in più. I dati grezzi già sono sugli analytics e lui già te li fa visualizzare in un certo modo. Ma grazie a Francesco, head of teaching di Boolean del corso Data Analysis, ho visto un sacco di cosette interessanti in maniera più semplice. Ringrazio Boolean per avermelo prestato. Quello che ha fatto fondamentalmente è stato accedere ai miei analytics di YouTube, a cui gli ho dato l'accesso, scaricare un file CSV, che è praticamente una serie di colonne con tutti i dati dei miei video, e utilizzare tutti i dati per creare appunto queste tabelle interattive su Tableau. Se mi seguite vi ricorderete di Francesco perché sono il protagonista del mio video a tema Data Analysis, dove presento la figura del Data Analyst. Lui mi ha spiegato tutto dalla Lala Z. Comunque andiamo a vedere cosa ha combinato. Poi abbiamo una dashboard riepilogativa del tuo canale YouTube, tutte informazioni chiaramente sui video che hai fatto nel tuo canale. Poi abbiamo i due anni a confronto, quindi siamo confrontati al 2022 e al 2023. La prima cosa che notiamo è che il numero di video è aumentato più 350% da un anno all'altro. Però in realtà sappiamo che il grosso sono shorts. Esatto, esatto. Qui abbiamo un filtro che ci permette di filtrare e vedere soltanto gli shorts. Vediamo che comunque nel 2023 206 di tutti quei video che erano 265 erano shorts. Infatti se andiamo a confrontare soltanto i video notiamo che hai fatto 8 video in più. Quindi guardando soltanto i video vediamo che hai fatto meno impressions, meno 40%. Il click-through rate è rimasto invariato. Hai fatto un po' meno views e un po' meno subscribers. Poi è importante notare che in realtà i subscribers sono i subscribers da video, non quelli totali. Beh, il grosso che portiamo a casa da questa tab è fondamentalmente che ho pubblicato un sacco di shorts in più, quindi ho fatto cumulativamente un sacco di views in più se non che in realtà il watch time che poi è l'unico dato che ci interessa è minore. Quindi in realtà anche se lì per lì potrebbe sembrare che il canale sia andato meglio, in realtà il canale a livello di watch time è andato un pochino peggio. Poi la mia missione di questo è che ho fatto video anche molto più di nicchia, ho ristretto un pochino quella che è la mia bolla. Ci sono anche altre tab. Avevo creato anche quest'altra dashboard dove il dashboard è semplicemente un insieme di grafici. Infatti vediamo che sopra abbiamo una serie storica quindi di nuovo andamento mese per mese dei video e degli shorts. Infatti vediamo che i video li facevi già all'inizio del 2022 e gli shorts ha iniziato invece a farli nel 2023. Infatti qua il suo picco, questo grande picco diciamo degli shorts è a gennaio del 2023. Ma questo perché io a gennaio di dei 200 shorts che io ho messo durante l'anno la metà li ho messi tutti a gennaio perché erano tutti video brevi che io avevo già realizzato ma messi su TikTok e che poi avevo messo in massa su YouTube tipo 9 al giorno e quindi chiaramente quando tu inizi a mettere shorts per la prima volta YouTube ti premia e quindi mi ha fatto fare un picco assurdo di views e di iscritti proprio tutti a gennaio. Cosa stiamo guardando qui? Qui abbiamo categorizzato tutti i tuoi video guardando le playlist di YouTube. Qui abbiamo una serie di metriche che abbiamo in parte già visto, il numero di video, le views medie, il click through rate, the impression, the impression of views, gli subscriber, quindi il numero medio di subscriber per video e infine la percentuale di video visto. Queste playlist sono state ordinate per numero di subscriber medio e vediamo che la playlist più gettonata è cosa compro con un euro. Qui bisogna stare attenti però, esatto, abbiamo soltanto un video del 2022. 2022, quindi non è molto significativo come dato. Esatto. E mi sarei sempre attenti ai numeri assoluti anche. Invece la playlist successiva termine di numero di subscribers è nella vita di. Che è la playlist infatti più di successo del canale ad oggi. Cioè quest'anno mi sono guacciato sul business, gli unici video comunque per il suo business però che sono usciti fuori erano le interviste nella vita di. Peraltro se clicchiamo vediamo che è interattiva come dashboard infatti abbiamo evidenziato i video nello scatterplot qui sotto. Qui ognuno di questi pallini rappresenta un video e stiamo guardando queste due metriche messe a confronte quindi abbiamo la percentuale di video visto contro sull'asse invece verticale il click through rate se c'è un video. Vediamo che più grande la pallina più subscribers quel video ha portato. Vediamo che il video che ha portato più subscribers di tutti in questa playlist è nella vita di Salvatore Arantulla. Ben 6.000 iscritti ma non è il video con più iscritti in assoluto infatti 6.141 li ha portati quest'altro video vi mostro la Dubai povera e sfruttata. Questo ci insegna anche quali sono le playlist che vengono meglio e peggio infatti io nel 24 comunque voglio puntare molto sulla playlist nella vita di la playlist investimenti e risparmio proprio perché sono le migliori e sono anche quelle che mi piacciono di più tra l'altro. Altrato che possiamo vedere da questo dashboard è che se guardiamo gli shorts vediamo che tutti i pallini verdi che sono quelli che rappresentano gli shorts sono spostati verso l'estra in questo scatterplot qui naturalmente la spiegazione è abbastanza ovvia qui stiamo guardando la percentuale di video visto gli shorts essendo molto corti appunto hanno una durata di segnituno 30 secondi 60 secondi e quindi è molto più facile che si arrivi a una percentuale di 80% però ti devo dire mi aspettavo una media più bassa di views comunque 76.000 views a singolo short vuol dire che comunque vale la pena farne. Ricordiamo che i views non sono impression quindi è lo step successivo esatto esatto veramente interessante ringrazio di nuovo Boolean per avermi aiutato a togliermi questo piccolo sfizio non posso ancora permettermi di assumere una data analyst quindi siete stati molto utili voi mi chiederete chi è Boolean e vi devo sgridare non avete visto i miei due video a tema sviluppo web e a tema data analisi il video a tema sviluppo web è il primo video che ho fatto con Boolean dove mostro la loro realtà in cui il video parlo di quello che è stato il loro primo corso quello principale un corso full time di 6 mesi per diventare full stack web developer e entrare subito nel mondo del lavoro dopodiché hanno fatto anche un corso sul mondo delle analisi dati che è quello che ho presentato nel video con Francesco ma adesso ce ne sono altri due nuovi o meglio due varianti c'è anche un corso di sviluppo web solo back end questa volta part time che dura sempre 6 mesi sempre con l'obiettivo di entrare subito nel mondo del lavoro e c'è anche un corso invece on demand quindi mentre gli altri corsi sono proprio da academy live con i professori e con le tue classi hanno creato invece un corso on demand con un prezzo molto più basso con tutte le basi delle analisi dati per entrare in questo mondo poi se decidi di proseguire con il corso più avanzato live con i professori e tutto con i compiti per casa allora il prezzo del corso on demand ti viene scalato dal costo del nuovo corso passiamo ai soldi quanto ha guadagnato la Marcello Ascani SRL prima fonte d'entrata è la solita AdSense cioè guadagni diretti della piattaforma di YouTube come lo scorso anno 45.000 euro o meglio in realtà 50.000 euro il cui 10% lo do al mio NCN con cui probabilmente ormai staccherò al prossimo anno perché non è più un servizio di cui usufruisco quindi comunque invariato rispetto allo scorso anno 45.000 poi abbiamo il mio video corso Tube Mastery che è il corso dove insegno tutto il necessario per iniziare e avere successo su YouTube anche per chi in realtà ha già iniziato è un video corso che ormai ho da svariati anni ogni anno migliora quest'anno devo dire ha fatturato molto di più rispetto allo scorso anno Tube Mastery ha fatto 170.000 euro contro i 65 dello scorso anno che in realtà erano un po' di più avevo calcolato male comunque ho fatto 100.000 euro in più questo anche grazie al fatto che lo sto gestendo con i ragazzi di marketers con cui mi divido i guadagni quindi sì ho fatturato molto di più però mi divido i guadagni con loro però effettivamente delego tutto il marketing a loro quindi se vi sono arrivate su Instagram o su Facebook non lo so delle pubblicità con la mia faccia dopo avendo il video corso le hanno fatte loro quelle pubblicità comunque in generale sono veramente contento e ho comandato specialmente del feedback delle persone perché di anno in anno migliorando un pochino il prodotto sempre di più ricevo sempre più feedback positivi non solo alcune persone iniziano anche ad avere successo su YouTube dopo che hanno acquistato il corso alcuni me li ritrovo anche nella home di YouTube tra l'altro io con la mia agenzia ho iniziato a gestire anche degli YouTuber e uno degli YouTuber che gestiamo è proprio Green Italy che ha acquistato il mio corso è cresciuto un botto e quindi ho detto senti sei cresciuto vieni con noi quindi sono molto contento di questo flex poi abbiamo la fetta degli accordi con i brand che sono più o meno 600.000 euro molto di più dello scorso anno come mai? sia perché penso di avere accettato più collaborazioni in totale non ne sono ancora sicuro ma in realtà perché ho aumentato i prezzi quest'anno la mia missione era fare meno sponsorizzate e per farlo ho detto io aumento i prezzi per sicurezza in realtà questa cosa non ha influito sul numero di collaborazioni e quindi io poi ho guadagnato molto di più che è una cosa bella per essere ancora più specifico e controllare bene quante sponsorizzazioni ho fatto quest'anno ho controllato tutti i miei video e li ho divisi per categorie video non sponsorizzati video sponsorizzati con una mention che è un inserimento di 60 massimo 90 secondi scollegato però dal resto del video quindi magari il video dura 20 minuti e in mezzo c'è un minuto dedicato a un brand poi le menzioni pesanti cioè dei video che presentano degli inserimenti pubblicitari ma durano magari più di un minuto e magari il resto del video si vede che non è completamente scollegato ma magari è stato fatto ad hoc quindi con un po' di conflitto di interesse video dedicati ma imbucato da quindi quei video fatti con un brand ma specificatamente per il format imbucato da che è uno dei miei preferiti e poi video dedicati non imbucato da quindi video con un argomento specifico però dedicato al brand ho voluto categorizzarli per capire se effettivamente i video sponsorizzati vanno peggio rispetto a quelli non sponsorizzati e quale categoria va peggio in assoluto e viene più sofferta dal mio pubblico in realtà già lo so ma ho voluto testare i dati ho fatto quindi la mia tabellina qua ho categorizzato tutti i miei video su una colonna ci sono le views poi il watch time poi gli iscritti portati e il riassunto è che ho pubblicato 9 video senza sponsorizzazioni completamente liberi 20 video con delle menzioni normali cioè 60 secondi slegate dal video 11 video imbucato da 10 video dedicati completamente dedicati e 9 video con la menzione pesante cioè con la menzione riuscita un po' male sono quei video che mi sono usciti male durante i periodi più impegnati dell'anno li ho detti in questo ordine perché l'ordine dalla media migliore alla media peggiore infatti vediamo che la media di views sui video non sponsorizzati di più o meno di 200.000 le menzioni 150.000 gli invocati 120.000 i dedicati 107.000 e i peggiori le menzioni pesanti i 101.000 anche perché erano video secondo me fatti peggio perché pubblicati in periodi in cui ero più stressato mentre video come le menzioni erano video che magari già volevo fare erano già pazzeschi di loro ma inserivo l'inserimento pubblicitario video non sponsorizzati sono andate benissimo perché sono quasi tutti video nella vita di dove essendo con degli ospiti spesso molto importanti non volevo inserirci lo sponsor per non associare l'ospite allo sponsor chiaramente visti questi dati il prossimo anno ho deciso di fare solamente video non sponsorizzati o menzioni classiche semplici o imbucato da eliminando completamente i dedicati che non sono imbucati e le menzioni pesanti e quindi quest'anno supero di gran lunga gli 800.000 euro non vi so dare una cifra precisa perché devo chiudere il bilancio ancora tant'è che anche lo scorso anno in realtà ho fatto un piccolo errore avevo detto che avrei fatturato 420.000 euro in realtà se andate a vedere il mio bilancio ne ho fatturati 450.000 quest'anno siamo sopra gli 800.000 sotto i 900.000 siamo in questo registro gli 850 secondo me siamo là è un ottimo risultato è quasi il doppio rispetto allo scorso anno non penso che raddoppierò anche il prossimo anno penso che sia stato un allenamento anche di Astri e penso anche che farò meno sponsorizzata il prossimo anno per cui immagino che fatturerò uguale o un po' di più chiaramente purtroppo non è che 900.000 euro li prendo e me li porto a casa e sono tutti miei ma bisogna aggiungere tutte le spese dell'anno e poi chiaramente scenderò a pagare le tasse sul profitto che sono più o meno il 30% questo perché ho fatto la holding quindi poi i profitti me li porto sulla holding per quanto riguarda le spese della Marcella Scani SRL quest'anno ho speso più o meno 230.000 euro in linea con gli scorsi anni aumentando sempre di più ma non troppo chiaramente escluse le tasse quelle non le contano le spese parliamo di spese vive di questi 230.000 euro circa sono divisi in 39% quindi la fetta più grossa in assoluto servizi aziendali come mai la fetta più grande in assoluto perché all'interno della categoria servizi aziendali ho fatto mettere sia le spese in advertising per il mio videocorso più o meno 30.000 euro sia i soldi che pago a marketers per la divisione dei guadagni del corso al netto delle spese chiaramente e poi abbiamo anche tutto il resto quindi gli abbonamenti e tutti i servizi che pago la suite di Google per me e per i miei collaboratori Notion per me e per i collaboratori Vimeo Kajabi ActiveCampaign MailChimp Lost del mio sito web StreamYard i servizi per scaricare la musica quelli per i video stock pago veramente un sacco di cose al 21% abbiamo i compensi amministratore che appunto sono i soldi che mi sono dato da solo sempre al 21% abbiamo spese in collaboratori che sono in costante aumento di anno in anno ma non ho esagerato prossimo anno appunto di non aumentarle ma di aumentare l'efficienza perché anche se sono aumentati i collaboratori di quest'anno non è aumentata la produttività ho visto tra l'altro un bel video di Matt Davella che è appena uscito su come mai lui è tornato a fare le cose da solo e un po' lo capisco perché prendere tanti collaboratori sulla carta dovrebbe aiutarti a produrre molto di più in realtà non sempre produce di più perché hai tanto lavoro in più da fare nel gestire persone eccetera eccetera è una cosa che paga penso quando si cresce tanto e sul lungo termine quindi voglio aumentare l'efficienza il 7% l'ho speso in cibo tutto il cibo durante le mie trasferte che ordino qua in ufficio è tutto pagato col conto aziendale e ordino sempre in particolare taxi e anche tutta la mobilità sharing quindi monopattini le bici eccetera eccetera al 4% abbiamo lo shopping e l'attrezzatura ho pagato pochissima attrezzatura con mio conto perché il resto l'abbiamo pagata col conto di flatmates perché è qua in ufficio e il 3% in alloggi quindi hotel e cose in giro per il mondo viaggiando poco ho speso poco anche in hotel e così chiudiamo più o meno la torta come al solito i conti non sono al centesimo se volete vedere al centesimo potete scaricarvi la mia visura il prossimo anno quando esce però invece per il prossimo anno punto a spendere un pochino di più e già so con chi lavorerò con un'amministrazione sono una persona che racconto al centesimo di tutte le cose quindi farò una categorizzazione molto più certosina delle mie spese e farò un video il prossimo anno dove ogni singola spesa sarà ben categorizzata e quindi sarà molto più preciso rispetto a questo video che vi dà comunque un'idea abbastanza chiara delle mie spese passiamo a flatmates la mia agenzia perché come ho già detto la mia vita è divisa in due se da una parte sono uno youtuber un creator e ho tutta questa molla di cose da fare dall'altra sono un imprenditore ho un'agenzia con dei soci fantastici siamo qua in ufficio finalmente da quest'anno abbiamo fatto ben due gide aziendali che in gergo si chiamano offsite che ho vloggato sul mio canale tra l'altro dopo il vlog ogni volta mi arrivano le richieste di curriculum nella mail cv a cui potete sempre candidarvi abbiamo fatto una bella festa aziendale a dicembre abbiamo svuotato il ristorante cinese che era qua sotto la piazza dove c'è il nostro ufficio e lo abbiamo riempito di persone abbiamo messo cibo cinese all'yukenit birra karaoke e adesso è abbastanza divertente DJ set durante quest'anno come ho già raccontato nei video offsite flatmates si è strutturata di più siamo ormai più di 12 persone penso se consideri anche i fornitori le persone che ci aiutano con i video non lo so quanti siamo e abbiamo chiuso l'anno con 3 milioni di fatturato che è un bel risultato lo scorso anno abbiamo chiuso a 2 e mezzo quindi comunque è un bel incremento per il prossimo anno abbiamo assegnato degli obiettivi sfidanti perché ci sono nuove aree di business che stiamo cercando di costruire stiamo cercando di evolverci perché il mercato dell'influencer marketing di anno in anno cambia sempre di più non sta fermo e anche noi non possiamo stare fermi ma sono molto molto stimolato da questo punto di vista se non sapete cosa fa flatmates ho fatto un sacco di video riguardo quindi andatele a rivedere chiaramente di nuovo questi 3 milioni non sono miei sono 3 milioni che ha fatturato flatmates flatmates ne ha spesi tanti altri è un'azienda vera quindi spende molto di più di io che sono un youtuber singolo e risponde a dinamiche diverse per i più tecnici noi cerchiamo di tenere un EBITDA fisso intorno al 7% se non ricordo tutto l'avanzo oltre a quell'EBITDA lo reinvestiamo nell'azienda in personale in sviluppo di progetti eccetera eccetera quindi se qualcuno vorrà curiosare i nostri bilanci il prossimo anno penso che vedrà qualcosa del genere parliamo di obiettivi innanzitutto vediamo un po' gli obiettivi che mi hanno dato lo scorso anno perché non va bene che ogni volta mi do degli obiettivi e poi faccio finta di non essermi dei dati quindi vediamo se sono stato bravo allora obiettivi risolti quasi tutti raggiunti 100.000 euro con AdSense di YouTube non l'ho raggiunti perché pensavo di crescere molto di più sul canale 500.000 con i brand raggiunti 200.000 di filmasteri quasi quasi raggiunti sono detto 170 investire meglio i miei risparmi ci sono riuscito se avete visto il video dove parlo dei miei soldi ho spiegato tutto quanto là anche se presto uscirà un aggiornamento sui miei investimenti come faccio ogni anno 3 milioni con flatmates raggiunti quindi obiettivi di soldi direi buono obiettivi di vita invece molto male non ho letto neanche un libro nuovo quest'anno forse è il primo anno che non leggo neanche un libro nuovo quindi grande 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 vergogna obiettivo yoga e meditazione l'ho segnato come non fatto anche se in realtà durante l'anno ho fatto parecchio yoga però in maniera troppo incostante o meglio solo la prima parte dell'anno poi mi sono bloccato dall'estate in poi e anche l'obiettivo stare in forma ed allenarmi per la prima volta dopo penso 10 anni di vita non lo posso spuntare perché quest'anno sono fuori forma ero più in forma a gennaio rispetto ad oggi ed è la prima volta che mi succede una cosa del genere no vabbè durante il covid ho avuto lo stesso problema però male male su youtube avevo l'obiettivo di gestire meglio il mio team e devo dire che un obiettivo raggiunto devo ancora migliorare dal punto di vista del team dalle organizzazioni dei processi tutto quanto ma siamo spannavante rispetto a 2022 volevo fare due video a settimana e non ci sono riuscito volevo fare un milione di iscritti ragazzi perché il mio obiettivo era spaccare non l'ho fatti volevo fare daily reel un contenuto breve al giorno originale quindi un contenuto da un minutino dove magari raccontavo la mia giornata non l'ho fatto ovviamente e poi automazione e processi questa è una roba che ho messo in corso d'opera non l'ho fatto dato che ormai c'è l'intelligenza artificiale che dilaga io sto imparando un sacco di cosine sto cercando di automatizzare alcuni processi migliorare comunque il processo di realizzazione dei miei video che adesso è molto imbalsamato man mano che andiamo avanti negli anni ci metto sempre di più a fare i video e non va bene cioè i video migliorano anche sono contento però possono essere fatte in maniera più snella che obiettivi ho per il prossimo anno? rimane l'obiettivo di tornare in forma quindi obiettivo fondamentale rimane l'obiettivo di spaccare col canale perché ad oggi comunque rimane quello che è solo da sempre il motore di tutta la mia vita professionale quindi è sciocco da parte mia a dimenticarmi di questo aspetto quest'anno non sono contento di comandare il mio canale sono contento di molti video che ho fatto sono contento in generale dell'andamento che sta prendendo il mio posizionamento mi piace che il mio canale sia sempre più sull'imprenditoria ma l'obiettivo del prossimo anno è quello di spaccare e quest'anno non ho spaccato secondo me e a questo si collega chiaramente l'obiettivo di fare meno sponsorizzate un altro obiettivo che non sono riuscito a raggiungere quest'anno il prossimo anno o lo raggiungo o lo raggiungo ultimo obiettivo per il prossimo anno è collegato sempre a questo ed è il fatto di accettare sempre meno cose sono stato bravo quest'anno in realtà posso ancora migliorare significa eventi inutili lavori che non voglio fare impegni di altro tipo devo ricordarmi delle mie priorità come ho già detto ormai tante volte essere un yes man ha pagato fino a un certo punto nella mia vita adesso sta pagando essere un no man e devo continuare perché questo mi permette di liberarmi del mio tempo non passare la vita dietro alle urgenze che sarò quello che mi ha stressato quest'anno e riuscire finalmente a non passare la vita dietro alle urgenze come già sono riuscito a fare a novembre dicembre del 2023 mi permette di guardare più ed ampio respiro essere più creativo lavorare anche sulla crescita sul miglioramento di tutte le attività che faccio e non solamente sulla vita di tutti i giorni e sull'operatività questo era un obiettivo che io vedevo ormai da anni fondamentale ci ho messo tanto a riuscire a uscire dal loop di urgenze e cose da fare lavori e brand che accettavo uno dopo l'altro senza mai riuscire a fermarmi sento che sto riuscendo a fermarmi da quel tipo di vita e questo mi sta permettendo di sperimentare un cambiamento del mio lavoro che mi spinge a essere sempre un pochino di più imprenditore e sempre un pochino di meno youtuber classico io mi auguro nel mio futuro prossimo medio che le mie entrate da le sponsorizzate con i brand saranno ormai sempre di meno negli anni a venire e saranno sempre di più le entrate dovute a progetti imprenditoriali primo fra tutti ovviamente la mia agenzia flatmates lo scopriremo solamente il tempo ce lo dirà vi sia stato utile e sia stato interessante fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo presto sul canale con l'aggiornamento probabilmente del video degli investimenti e il prossimo anno con il video dei soldi del prossimo anno inoltre in descrizione se siete interessati a Boolean trovate tutti quanti gli eventi gratuiti più le informazioni su tutti quanti i loro corsi sia sullo sviluppo web full stack o back end sia i corsi di data analisi tra cui quello on demand che con il codice ASCANI30 è scontato